Paolino, sei felice o sei fortunato per questo secondo gioco? Potrei andare a casa dopo il secondo gioco in qualificazione. Inoltre, sei qui, studiando per migliorare la tua performance. No, sicuramente felice, perché... Come possiamo dire sulle performance? Seconda posizione... Il più grande problema è il meccanico. Il più grande problema è sotto la tenta. La performance è ok, c'è nulla cosa da dire. Siamo felici. Ovviamente per fare la posizione è meglio. Ma la performance è lì. Quindi, quello che è importante è il settore finale. Non è sicuramente una sessione qualificata. Quindi, ora lavoreremo durante le hit per cercare di trovare qualcosa per andare un po' più veloce. e per il momento siamo felici. Questa mattina, in cui stavamo chiamando i nomi per il titolo. E ogni volta i nomi erano Daner e 2KR. Quindi, tu e Danilo. E poi Tom, per sicuramente. Quale è la tua idea? L'idea è la mia, ovviamente. L'idea è la mia, ovviamente. Correggio. No. Solo un nome. Si. Ma lavoriamo fortemente da me. E avvлена, quindi siamo molto credenti che avere le praise materiale e le wronge performance. Quindi, non sono fecchi dell'altro. La performance è lì. e credo di essere pronti per avere questo tipo di raccogliere per sicuramente non renderemo la vita più facile per gli altri quindi combatteremo fino alla fine e dopo, se stiamo più veloce siamo venuti altrimenti avremo accettato il risultato con il servizio ok, vedo che è presto perché è solo domani oggi ma se a settembre voi e Danilo ci saranno davanti prima e seconda ci saranno strategie o non? ordini? vediamo per sicuramente ci saranno per la squadra ma ci saranno due ruote non solo per la squadra quindi per sicuramente cerchiamo di finire la squadra per la squadra e anche per noi quindi per Danilo per me uno di loro deve venire la squadra quindi e dopo se arriviamo alla fine prima e seconda solo la squadra sarà chi sarà finire la prima o la seconda vediamo grazie 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 grazie